Siamo con il centravanti della Profavara, Bambà, oggi una partita difficile qui con la Mazzarese, 1-0, come hai visto la partita? La partita oggi è una partita molto dura, difficile, perché tutte e due squadre abbiamo un ausiativo per le play-off, quindi non è stata facile per tutte e due, è andata dura, dura la partita. Avete avuto anche qualche occasione nel primo tempo, quel passaggio di Passewe, inizialmente sembravate aver preso in mano la partita, poi avete avuto qualche problemino, no? No, non è che abbiamo trovato un po' di problemi, comunque, purtroppo la partita è così, c'è l'occasione che abbiamo trovato, anche la spada al verso, però purtroppo non è stata fatta come dovevamo fare, quindi diciamo che non è che è andata anche male, perché abbiamo cercato sempre a fare questo gol, ma non è stata come... Comunque, state facendo un gran campionato? Un grandissimo campionato, stiamo facendo tutto, il gruppo come la squadra, stiamo facendo un bellissimo campionato con San.